Però, spesso questi vestono buoni propositi. Beh, noi abbiamo deciso di concretizzare, appunto, quelle buone intenzioni, realizzare un'associazione che riuscisse davvero a organizzare incontri, attività di dibattito e confronto. È per me una soddisfazione essere riusciti a creare questa associazione, che adesso vedremo in tutti i passaggi, e soprattutto oggi parliamo dei fatti realizzati, non semplicemente di chiacchiere. Spesso...